Buona giornata amici, ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è sabato 9 luglio 2023, anche una settimana volge al termine, noi poi ci proiettiamo con la prossima domenica domani perché sarà una giornata molto intensa e molto particolare. Intanto vediamo l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi. Oggi abbiamo due santi, i Santi Aquila e Priscilla. Erano marito e moglie, furono martiri, furono martirizzati, ma erano discepoli di San Paolo. Erano fabbricatori di tende, lo ospitarono, l'Apostolo, nella loro casa a Corinto. Poi lo seguirono anche nelle sue peregrinazioni, anche a Efeso e in altre località. Collaborarono con lui alla diffusione del Vangelo e poi ovviamente subirono il martirio come il loro maestro. I Santi Aquila e Priscilla. Le previsioni del tempo, le previsioni del tempo. Oggi ancora bel tempo su tutte le marche, con bel sole splendente per l'intera giornata. Non sono previste piogge nelle prossime ore. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da ovest le temperature tra i 19 e i 27 gradi. Quindi probabilmente avremo anche domani una bella giornata in modo che in questo weekend sarà possibile trascorrere una bella vacanza al mare. E di questo chiediamo conferma a Mauro Talamelli, dei bagni La Baia, La Baia Metauro. Buongiorno Mauro. Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti. Allora, è lecito sperare in un bel weekend di sole per sabato e domenica al mare? Le previsioni mettono bellissimo tempo anche fino a metà della prossima settimana. Ah, finalmente potremo godere di un po' di pace senza quegli acquazzoni improvvisi che hanno un po' rovinato le vacanze nella settimana scorsa. Allora, un weekend di solito aumentano le presenze in spiaggia. Come ti prepari per sostenere questi due giorni, Mauro? E niente, noi siamo qui con la spiaggia tutta perfettamente pulita, a posto e preparata appunto per l'affluenza di tanta gente. La domenica soprattutto si riempie la spiaggia. Senti, la tua spiaggia è una spiaggia ghiaiosa immagino, non c'è sabbia, vero? La mia spiaggia, la ghiaia dove ci sono gli ombroni lettini, a riva c'è la sabbia e in acqua c'è la sabbia, si può passeggiare tranquillamente. Ma perché la gente preferisce la spiaggia con la ghiaia invece che con la sabbia? Perché è più pulita e più... Esatto, esatto. Secondo me la spiaggia con la ghiaia è molto più pulita. Io ho avuto per anni un'altra spiaggia con la sabbia e è più difficile mantenere la pulita. Benissimo, poi siamo vicini al fiume insomma, quindi abbiamo una spiaggia, è tutta particolare, che fanno a questa bella opportunità. Accontenta sia coloro che vogliono la sabbia e vanno a Lido, e sia coloro invece che vogliono la ghiaia che vanno in Sassonia e anche a Baia Metauro. Senti Mauro, ieri c'è stata una conferenza stampa qui a Fano, dove la Confcommercio ha presentato la bandiera dell'accoglienza. Una bandiera che verrà distribuita a tutti i bagnini, ai ristoratori, agli albergatori, a tutti coloro che fanno turismo, per evidenziare la loro propensione ad accogliere tutti nella stessa maniera, con lo stesso livello di qualità, ovvero a norma dotati, persone con disabilità, persone di diversa estrazione sociale, oppure italiani, stranieri, insomma tutti nello stesso grado. Cosa ne pensi di questa iniziativa? Pensi che sia opportuna? È molto opportuna, poi personalmente la mia spiaggia ha tre passerelle che ti accede al mare, anche per portatori di vendita, diciamo. Io sono proprio qui nell'ombrellone, non so se riuscite a vedere, con una carrozzina, e questo ragazzo è con me da quando ho aperto, dal 2011. Io ho perso almeno 20 ombrelloni in tutta la struttura per poter appunto dare la possibilità con queste tre passerelle, ho diviso la spiaggia in quattro settori, per accedere al mare più comodamente possibile per tutti. Questa è una bella iniziativa che ti fa onore, come fa onore anche agli altri concessionari di spiaggia, poter offrire una bella vacanza anche a coloro che si muovono in carrozzella è veramente un'idea molto molto bella. Ci sono poi quelle sedie, quelle job, quelle sedie job che portano appunto i disabili anche in acqua, così possono bagnarsi come tutti gli altri. Benissimo Mauro, è stato un piacere ospitarti nella nostra trasmissione per tutta la settimana, noi ti auguriamo un buon proseguo e quindi una buona vacanza. Tu quando vai in vacanza? In inverno? A fine stagione anche secondo le possibilità personali che se me lo permettono ecco. Ma credo che ci andrai ben volentieri. Grazie Mauro della tua partecipazione, buon proseguimento. Grazie a voi, è stato un piacere per me e grazie a tutti voi, buona giornata a tutti. Benissimo, ora apriamo i giornali e proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Vediamo l'apertura sul resto del Carlino questa mattina. E si parla di quel sit-in che ieri si è svolto davanti al commissariato di Fano. A organizzarlo sono stati gli stessi poliziotti. Che cosa evidenziano? Evidenziano soprattutto la carenza di organico che limita l'operatività del commissariato di Fano. La città di Fano è la terza città delle Marche. Ha in servizio 37 poliziotti. Ne servirebbero almeno 43. Ebbene, questo numero non si riesce mai a raggiungere. E purtroppo ne viene a inficiare e ne viene a mancare anche un certo grado di servizio come quello del controllo notturno con la volante. E spesso i poliziotti sono costretti a delegare questo servizio ai carabinieri ma anche loro non se la passano molto bene, infatti, di organico. Fano aderito a un presidio di polizia in grado di dare risposte concrete alle esigenze di sicurezza dei cittadini. Un organico che prevede, come abbiamo detto, 43 dipendenti e già sarebbe un numero inadeguato. Comunque questo è l'organico. Ma attualmente sono in servizio 37 poliziotti con una media superiore ai 50 anni. Quindi veramente è una situazione molto molto critica. E poi c'è da considerare che i poliziotti sono anche costretti ad assolvere dei servizi che in realtà poco si confacciano con la loro natura di tutori dell'ordine ovvero quella amministrativa, quella di dover espletare le operazioni per rilasciare i passaporti. Questa è un'incombenza che limita il controllo nel territorio e quindi il dovere di assicurare la sicurezza dei cittadini. Ebbene, tutto questo è stato ribadito ieri durante il sit-in dal sindacato del SIULP che ha organizzato l'iniziativa. Ed erano presenti molti esponenti politici locali a partire dall'onorevole Baldelli poi c'erano esponenti di Fratelli d'Italia come Montalbini del Vecchio c'era Cecchi dell'Udc Tarsi e Bergoglio sempre di Fratelli d'Italia Pollegioni dell'Udc Brandoni della Lega di Tommaso di Forza Italia Vitri e Fulvi del Partito Democratico quindi c'era sia a destra che a sinistra Molte volte sono stati lanciati degli appelli ai parlamentari affinché il Governo concedesse a Fano la tutela del territorio che merita in realtà poi tutto questo è rimasto nell'aria non è seguito alcun provvedimento esecutivo speriamo che questa volta con la carica con la forza del SIULP si ottenga qualcosa da anni chiediamo il rafforzamento del presidio del terzo centro delle Marche dice il segretario del SIULP ma fino adesso non è stato ottenuto nulla è Marco Lanzi un battagliero sindacalista che da anni si batte perché il territorio abbia la necessaria copertura di sicurezza ed ora parliamo dell'avvenimento di domani domani 9 luglio Fano avrà l'ingresso del suo nuovo ovescovo Monsignor Andrea Andreozzi il nuovo ovescovo arriva a Porta Maggiore ad accoglierlo anche il sindaco Massimo Seri ebbene dopo i giorni del comiato a Monsignor Trasarti un comiato che si è così parcellizzato in diverse occasioni è stato fatto in chiesa è stato fatto nelle istituzioni è stato fatto alle associazioni è stato fatto dalle persone che vogliono bene a Monsignor Trasarti che ora si eclisserà ma credo che rimarrà affettivamente sempre legato alle sue quattro diocesi che poi è una sola quella di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola il nuovo ovescovo, dicevo, arriva a Porta Maggiore arriverà alle ore 17 ma prima farà il suo ingresso a Marotta dove incontrerà la prima chiesa della sua diocesi ovvero la chiesa di San Giovanni Apostolo e poi arriverà alle ore 17 dicevo a Porta Maggiore dove sarà accolto dalle autorità sindaco o seri in testa ci sarà poi ovviamente anche il prefetto e tutte le altre autorità sia i civili che i militari ci sarà una grande folla che aspetterà le prime parole del presule e poi tutti andranno in cattedrale dove si svolgerà la prima messa celebrata da vescovo da Monsignor Andreozzi è un'attesa molto molto importante è un'attesa che si fa desiderare quella di ricevere il nuovo vescovo che abbiamo visto celebrare la sua ordinazione episcopale nella cattedrale di Fermo dove c'era appunto la diretta di Fano TV e poi dopo la cerimonia ci sarà un momento di incontro nella Pinacoteca di San Domenico e poi tutti un momento conviviale nel centro diocesano pastorale di Via Roma l'ex seminario dunque domani una giornata tutta dedicata appunto al nuovo vescovo un altro articolo di apertura del Corriere del resto del Carlino rievoca quell'episodio un po' squallido, devo dire che si è verificato al centro tennis della trave violenza sessuale altri due accusano l'istruttore saranno ascoltati il prossimo ottobre in un incidente probatorio gli allievi del maestro di tennis argentino che è ora ai domiciliari uno ha già parlato ora è il turno degli altri due allievi minorenni del maestro di tennis argentino 37 anni accusato di violenza sessuale ieri la psicologa li ha ritenuti capaci di testimoniare e quindi saranno ascoltati in un incidente probatorio che è stato fissato il 13 ottobre prossimo saranno ovviamente assistiti dai loro avvocati i racconti delle presunte vittime che riferiscono di baci e palpeggiamenti sono appunto quelli che saranno oggetto di attenzione da parte del giudice ci saranno anche gli sms che il 37enne inviava a una delle giovani promesse della racchetta dal contenuto ambiguo lui ovviamente si difende dicendo che è una prassi un po' del suo paese quello dell'argentina di avere questi rapporti affettuosi ma che non avrebbero evidenziato nulla di male invece insomma la situazione è controversa e sarà compito del giudice di rimerla un episodio invece dequalificante devo dire è accaduto all'ospedale di Fano è stata schiaffeggiata una dottoressa del 118 schiaffeggiata cacciata fuori di casa a spintoni afferrata per il polso per impedirle di telefonare alle forze dell'ordine è tutto perché volevano che il loro anziano parente fosse ricoverato all'ospedale di Senigallia non all'ospedale di Senigallia scusate ma a quello di Fano vittima delle violenze è una dottoressa del 118 di 42 anni di Fano la quale ha denunciato i suoi aggressori la figlia e il nipote dell'anziano una 53enne e uno di 24 anni originari della Calabria sono più frequenti gli episodi di violenza perpetuati nei confronti dei medici del pronto soccorso i quali purtroppo debbono operare in un clima non certo ideale sia per quanto riguarda la carenza di personale che per magari l'inappropriatezza delle esigenze di coloro che si presentano al pronto soccorso e che dovrebbero invece rivolgersi al medico di base passiamo alle altre località a Marotta nel comune di Mondolfo si evidenzia una band che ora tenta la scalata al successo si tratta dei senza volto che tentano la scalata al Castrocaro Festival lanciano un singolo la band vive tra Marotta e Fano domani sosterranno la seconda prova per approdare al Festival interrogerò Salta Martini sulla guardia medica chiusa lo afferma la capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale dopo che ha evidenziato quel caso dell'ufficio della guardia medica di Fano chiuso deserto mentre fuori c'erano tante persone che aspettavano di essere ricevute dal medico ma il medico non c'era non si è presentato al lavoro e nessuna comunicazione era stata rilasciata dall'azienda e quindi dovrà risponderne l'assessore alla sanità della regione Marche Filippo Salta Martini il caso della torrefazione di caffè che è nella zona di Ponte Metauro ora approda sul tavolo del sindaco a causa di un'espo di un'interrogazione dobbiamo dire del Movimento 5 Stelle il Movimento cosa fa evidenzia come nel regolamento del Comune ci sia proprio una preclusione alle aziende cosiddette considerate nocive all'assoluto e di insediarsi in un centro urbano in un centro abitato dovrebbero farlo magari in una zona più periferica quindi chi ha concesso quelle autorizzazioni è un punto interrogativo a cui dovrà rispondere la Giunta in una delle prossime sedute del Consiglio Comunale a Urbino si parla di uno spettacolo veramente coinvolgente lo spettacolo dell'Aita in questo caso cambiano le regole del gioco due tempi più lunghi invece di tre corti più combattimento e spirito di antichità un passo indietro nei secoli per rivivere emozioni lo spettacolo dell'Aita è uno spettacolo piuttosto cruento dobbiamo dire che risale al Medioevo al Rinascimento che ora viene rievocato con grande partecipazione e con grande coinvolgimento del pubblico nella città Ducale il gioco dell'Aita si rinnova ora per diventare ancora più coinvolgente in vista della partita che chiuderà la festa del Duca festa del Duca in programma dall'11 al 14 agosto del prossimo mese stiamo introducendo tre novità per renderlo più spettacolare dice Gianluca Ceravolo l'organizzatore tecnico appunto del gioco abbiamo fissato un limite massimo di età di 55 anni per ridurre il pericolo di infortuni c'è poi un ritorno ai due tempi che saranno da 20 a 25 minuti la partita è molto stancante richiede uno sforzo fisico considerevole e noi giocatori rischieremmo di arrivare provati alla terza frazione rendendola meno interessante inoltre abbiamo visto che un incontro strutturato in due tempi coinvolge di più il pubblico e quindi ci saranno queste novità il prossimo mese a Cagli la minoranza è in rivolta non a quei parcheggi blu sbagliati anche i posteggi giolli con il comune chiamato a pagare è il gruppo consigliare di minoranza il futuro in comune che espone la sua protesta protesta contro 250 stalli blu a pagamento che sono stati previsti praticamente eliminando l'offerta dei posti liberi si sa che ci deve essere sempre un equilibrio tra il parcheggio libero e al parcheggio a pagamento e in questo caso a Cagli secondo gli esponenti della opposizione i posti liberi sarebbero nettamente in minoranza gli stalli gialli destinati a residenti e commercianti sarebbero stati poi del tutto insufficienti rispetto agli utenti teorici circa 570 famiglie residenti nell'area quindi è stata stipulata secondo appunto sempre il futuro in comune una convenzione senza una preventiva valutazione di merito e delle effettive ricadute ed esigenze insomma c'è un contrasto tra il numero dei stalli a pagamento previsti e il numero poi della popolazione che deve usufruire di tutte le opportunità e poi qui invece in questo altro articolo di spalla abbiamo le dichiarazioni del consiglio regionale del consigliere regionale Rossi in merito agli esami per avere il patentino dei funghi ci sono state delle rimostranze nei giorni scorsi perché si diceva che questi esami erano troppo gravosi che era difficile superarli che bisognava rispondere a tante tante domande e poi la casistica era veramente infinita in realtà Rossi dice che per tutelare la salute ed eliminare il rischio di restare avvelinati sulla complessità dell'esame bisogna sapere distinguere i funghi e se i funghi sono tanti bisogna che i cercatori li conoscano bene altrimenti rischiano la loro salute e la salute degli altri questo per quanto riguarda il resto del Carlino ora diamo un'occhiata anche al giornale per quanto riguarda Pesaro il resto del Carlino dedica pagine 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 al decesso di Rodolfo Furlani lo vediamo qui funerali di Stato a Roma ci sarà anche il presidente Sergio Mattarella lutto nazionale per Furlani vediamo quante pagine dedica il giornale a questo personaggio lunedì l'ultimo saluto a Furlani funerale di Stato con Mattarella gli amici Silvio e Aido poi quell'incontro sei sicuro che sei bravo come dice Agile l'ex leader DC era cresciuto anche a fianco di Fava e di Giorgio anche la palla canestro è sempre stata una passione il ricordo di Bertini in questo caso si ricorda Forlani il tifoso ma anche lo sportivo ovviamente tutto da giovane e poi il suo ingresso in politica nella DC l'epopea di via Manzoni un altro fatto della vita di Forlani di Arnaldo Forlani l'ex DC Gaudenzi quella via tra politica calcio e azione cattolica e il pilastro dell'opposizione bianca in consiglio dei decenni passati ebbene Arnaldo Forlani qui lo vediamo con la sua famiglia anche qua lo vediamo con la moglie e i figli lavoro aziende filantropia quando la provincia intera bussava l'onorevole aiutò anche l'università Forlani e nonostante poi che emigrò a Roma non ne dimenticò mai il suo territorio e quindi fu sempre presente cercò anche di valorizzare l'economia della provincia di Pesaro Urbino e allora passiamo ad altre notizie parliamo dell'isola pedonale e della musica nella notte due componenti che devono essere così equilibrate per far sì che la musica si contemperi con la necessità di riposo dei vacanzieri in modo da far sì che Pesaro capitale della cultura del prossimo anno possa ospitare in accordo tante tante persone Pesaro deve essere così ma rafforzeremo i controlli ai locali l'assessore alla sicurezza Enzo Belloni dice mi risultano che siano state fatte sette multe per lo sforamento degli orari questo vuol dire che i controlli ci sono non è vero che i controlli mancano gli albergatori però protestano per il traffico vietato e soprattutto per il rumore che arriva dai locali del litorale e ancora la polemica monta ormai monta da diversi giorni Palazzo Mazzolari una gara per tre sarà il primo appalto integrato ovvero l'appalto in cui chi vincerà appunto questa grara dovrà redigere anche il progetto definitivo ed esecutivo poi completare i lavori a metà del 2026 così come accade a tutti i lavori a tutti gli interventi che usufruiscono dei contributi del PNRR due fratellini nascono in mare i carabinieri si gettano e li salvano un episodio che ha destato grande emozione questo accaduto ieri a Pesaro il fatto è accaduto all'ido dell'arma i bambini sono stati poi soccorsi dai sanitari del 118 il primo ad essere salvato è stato un bambino di 8 anni che si era spinto magari un po' al di là di quella che era la zona di sicurezza e non riusciva più a rientrare a Riva si è gettato un carabiniere che era in Borghese in quel momento e quindi è riuscito a salvare e a portare a Riva il ragazzo ebbene vedo che il tempo ormai mi sta per scadere purtroppo siamo costretti a chiudere i giornali e a darvi appuntamento a lunedì prossimo alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci a